Le video notizie di distribuzione moderna L'anno scorso e quest'anno abbiamo ancora delle ambizioni molto forti per poter ripetere questa performance dell'anno scorso Lo vogliamo fare evidentemente attraverso il sviluppo del nostro assortimento Abbiamo quasi 400 referenze che vogliamo lanciare sul mercato La metà nel mondo dei freschissimi e la metà nel mondo PGC Attraverso prima di tutto la nostra marca cuore di mercato Che offre la qualità a prezzo ai nostri clienti Attraverso la marca Simple su cui vogliamo raggiungere 150 referenze a fine giugno e 200 referenze a fine anno La marca Simple è quella più conveniente che nel contesto attuale vediamo come un punto strategico Per poter offrire il meglio della qualità ma con un prezzo molto attrattivo ai nostri clienti E invece continuiamo il nostro percorso di differenziazione Attraverso il sviluppo della marca Tere d'Italia che ha ancora cresciuto tanto l'anno scorso E su cui vogliamo crescere a doppia cifra quest'anno Lavoriamo anche sul sviluppo della filiera qualità Carrefour Con un assortimento addizionale di 30-40 referenze quest'anno sulle filiere controllate E anche sul sviluppo di Carrefour Bio con un aggiunto abbastanza simile al nostro assortimento di prodotti Carrefour Bio E anche sul sviluppo di Carrefour Bio